Buongiorno a tutti, mi chiamo Delisi e sono, vengo dal Gabon, un paese dell'Africa centrale e vi porto questo progetto Blackalicious Afrofood. Oggi le persone lavorano, lavorano tanto, padre, madre di famiglia, persone singole e con lo stress della vita lavorativa non hanno mai il tempo, arrivando a casa, di cucinare e magari ordiniamo una pizza, un hamburger, un piatto veloce che mano a mano che andiamo ci rovina la salute. Invece la diaspora africana, venendo qui collaborando con l'Italia, vi ha portato una dieta fatta di piazzi gustosi, dietetici, poveri in grassi, zuccheri, eccetera, che si vogliono presentare come una dieta integrativa o sostitutiva. Ok, cosa proponiamo? Proponiamo un planning alimentare, un programma di accompagnamento alimentare a base di ingredienti tipici e di ricette africane rivisitate. Nascita di una start, domani sabato 13 parte l'apertura al pubblico dell'attività, perché è una realtà che è già stata costruita, che è già stata elaborata e per i fondi andiamo su fondi propri per ora, perché vogliamo cominciare piccoli, vedere come viene presentato il prodotto, come viene apprezzato dal pubblico, ci sarà un'interazione, quindi è una fase test che durerà circa tre mesi, in cui raccoglieremo tanti commenti, tante impressioni per sempre migliorare il prodotto. Poi, ecco, questo è il riassunto di quello che vi ho detto, il team, il progetto è mio, l'investimento è mio perché sono disoccupata e ho pensato di usare la disoccupazione per avviare questo progetto, anche perché noi della diaspora africana abbiamo il dovere di far conoscere all'Italia un'Africa che non conosce, attraverso la cucina, perché a tavola, nella convivialità, siamo più felici e scopriamo tante culture. Miei partner, Melania Village, che è un ristorante dove abbiamo il laboratorio e ci serve anche di location per gli eventi, e Costoviglie che ci dà le confezioni ecologiche compostabili perché abbiamo a cuore l'impatto ambientale, quindi di ridurlo, poi Deliveroo che ci farà le consegne, perché tra tutti quelli che ci hanno proposto, tutti quelli che hanno voluto accompagnarci in questo progetto, hanno avuto l'offerta migliore in termini di qualità, prezzo e anche di servizi. Voilà, Blackalicious, So Black, So Delicious, vi ringrazio. Grazie.